Nell'episodio precedente Oh oh Eh la madonna Sto facendo i buchi, occhio che cadi nel buco No Mi ho detto io e sono caduto io Spara lì No! C'era stato un bug, io dalla mia visione ho visto un bug Io voglio questo E quindi amico mio cos'è che dovremmo fare in sostanza A parte vederti che salti in là Guarda bro, oltre ad avere un fucile che spara cacco E tu che hai un battuta, non lo so Ah aspetta qua c'è una roca, ok ho fatto Wow wow Ok devo andare avanti Sto arrivando, eccoti Ti spara Oh oh È un FBS, è Call of Duty Esatto E vedi che alla fine ci troviamo a combattere l'un l'altro Sempre, sempre Tanto ti ricordavi il nome Leo Caruso si chiamava Oh, ho fatto saltare qualcosa Cazzo non so Tu sei sempre la persona che mi tradisce Cioè, ad esempio tu sei la moglie che mi vuole lasciare Esatto, è vero Ma perché? Comunque vedi che io posso far esplodere le tue robe Guarda Vediamo Se le riesco a colpire Aspetta Ecco, visto? Ma che figo, vediamo? È una sorta di effetto a catena Sì, sì, sì Eh, questo devo fare Qua 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 È disintegrato sto coso Cosa devo fare? Infatti Ma secondo me devi spaccare Ecco, bravo, fai quello È di legno Eccola lì Stupido La fisica Non è un'opinione Bene Ah, è vero che siamo Nei coso degli scogliattoli Esatto Però questa è proprio la loro base Qua c'è il tiro a bersaglio Scommetti Minchia lo sapevo Bellissimo Sì, ma devo Ah, perché io ho tre proiettili, capito? Ho solo quei tre Poi se non Poi se non Se non si ritirano È un casino sto coso Io in realtà ne ho tanti E tipo fino a quando non si scarica Tipo dietro il sapone Ok Perché dobbiamo fare così Tu devi afficcicare Io devo sparare Sennò non si spacca niente Ovviamente sì Ok Quindi Tu sei inutile senza di me E io senza di te pure Esatto Ok, figo Dai, basta sta roba Andiamo avanti Che bello che rendono te due utili Per l'altro Esatto, esatto Veramente figo Let's go Eh, vabbè Tanto sei buggato È rimasta una melma Attaccata al nuni Ok Eccolo Questo lo posso fare anche da solo L'ho fatto anche prima Quindi le cose sono Ok, quanto c'è che è grosso sto albero Ti ricordi che è un albero questo Ma infatti Come può essere così Siamo diventati ancora più piccoli noi Esatto Non è possibile Beh, qua dove sono venuto a fare Bravo Sono un grande Non c'era arrivato mai Take this Tu c'hai il take this facile Questa arma Perfetto Adesso arrivo a cuxire Inizia a tirare palle Sugli scogliatori Ok La fai? Yes Questa è una gabbia Amico mio C'entri tu al primo Non è che faccia O me Tu praticamente appesantisci le cose Sì Ah, però devi beccare il muro lì Guarda No, no Ah sì Eh, vedi, vedi Che oggi c'ho un IQ positivo Oggi c'ho un IQ positivo E sfruttiamolo Perché non è che capita la spesa Sì, sì, sì Eh, cosa facciamo però? Uh Questo è quando mi fai armare su Minecraft Esatto Devi colpisci lì Fidati Non pensare Tu penso io oggi Io ti dico Ok, ok, ok Sali qua Uh Hai visto? Oggi penso io per tutti Fidati Mi sa che devi tirare la culata Sicuro Ah Eh, vai, vai, vai Perfetto Perfetto Madonna che giocatore Oh Bene Allora, non solo Eh, vabbè C'è tutto sta roba L'hanno costruita Le disco No, aspetta Aspetta Rifai Ecco, vai Rifarlo Rifarlo No Mentre lo facevi Mi sono buttato nel vuoto È stato orribile Ok, aspetta Vai, adesso Let's go C'è un tombino Ok E ora Ah, mi sa che dobbiamo fare Aiutami, aiutami Non so cosa Non so cosa Dall'altra parte, ciccio Dall'altra parte Così mi appesatisci Voglio Oh, merda Eh, ok Aspetta, aspetta Oh Sono vivo per miracolo Non so neanche come Ok, bravo Dall'altra parte Di nuovo Bravissimo Vai No No, troppo Aspetta No No, di là Ecco Oh Oh, ce l'ho fatta Vai, vai, vai Ancora, ancora, ancora Ancora, ancora All'altra parte All'altra parte Bravo, ciccio Vai, bravo Vedi che insieme Siamo un po' ingegneri Eh, noi dovremmo aprire Un canale di ingegneria Assolutamente sì Come ci chiamiamo Eh, ci chiamiamo Ingegneri, ieri però, ieri Ingegner giochi Facciamo una specie di mix Tra il tuo canale Come, come, come Invece che i parco giochi Giochi ingegneri Non lo so Spara qua Ho pure i J ingegneri Che comunque Favi J La J ci deve essere Io sai come Sai come lo chiamerei Ho un naso gigante Cazzo Eh, allora Facciamo che mi fido di te Vediamo se devo fidarmi di te O di me stesso Wow Vedi, io me ne vado Ciao Che è successo Cos'è Cos'è star Start Ah, io posso Ah, tu sei di fermo Ma tu puoi muoverti Bellissimo Sei dentro il coso Del tipo di Bioshock Ma infatti Io ti posso elettrizzare No, posso schiacciare Sti tasti Ti ho mandato Ti ho dato fuoco Beh, la nostra amicizia È questa amico mio Menta pazza, aiuto, no E cosa vuoi fare? Ah, ti possiamo far morire In diversi modi È bellissimo Non ti prego Non ho fatto niente Niente, ti prego Sei tranquillo Ti ricordi che quella volta Che mi hai invitato A casa tua Non è vero Non mi hai mai invitato A casa tua Quindi beccati questo Aiuto Sono mai stato Che succede Cos'è sta roba? Non lo so Adesso vieni aspirato Beh, è bellissimo Raga, ma è sadico È veramente sadica Sta cosa Ne manca una To Wow Sei diventando una castagna È un tritta castagna Amico mio No, vabbè È il gioco migliore del mondo Fermi Ma cos'è? Cosa devo fare? Stop Con lo stop esci? Sì Ah, vedi È sadica sta cosa Pazzesco Bellissimo Vabbè Vieni Meno male che non puoi morire C'è sta magia Che ci Ogni volta che moriamo Ci riporta La terra Ah, no Ok, ok, ok E la catena nel senso Che io devo lasciare Il peso Che giri Quindi tu Colpisci quello sopra Adesso Colpisci quello sopra Segui le mie indicazioni Filatine Ok, visto Ma che hai oggi, bro? Non lo so Le vespe Doveva far sta roba Con le vespe Occhio Continua a colpire il coso anche Che sono un casino Il coso sopra? Sì Adesso no 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 Però tipo Dobbiamo colpire quello Sennò continueranno ad arrivare vespe Fidati All'infinito Ok Ok Adesso sta ancora girando Qua c'è ancora una vespa Che mi sta ingroppando Occhio Bravo Morta Ok Questo via No Maledizione Di colpire quello sotto Quello sotto Quello sotto Questo qua Sennò non gira più Ok O quello sopra adesso Oh Chi è quello? Chi cacchio è? Vai vai Spara lì Ho colpito Quello sopra 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 L'altro L'altro Non quello L'altro Fida Che male Esatto Vai 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 Esatto Che porca vacca Questo fa malissimo Oh Miche lo devo schivare con quadrato Difficilissimo L'ho sparato Colpisci Cosa di sopra Di sopra Quello di sopra Quello di sopra Quello su Vai Fila te Intanto lo colpisco L'ho colpito Dovrebbe sganciarsi l'ultimo Aia che male Madonna E minchia Mi carica Che devo fare Sembra un boss di Dark Souls Oh Devi schivare uguale Tra l'altro Minchia quanto li abbiamo tolto Spara 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 Aia La porta dovrebbe essersi aperta Secondo me si apre Appena lo battiamo Perché Non sta più girando E' morto E' quasi morto Se lo colpisce ancora una volta Lo disintegro Madonna Io sto schivando Dietro qua Sparato Eh Dovrebbe essere Appena lo schiva E' morto Ok è morto Aspetta Eh dai E non riesco a colpirlo Ce l'abbiamo fatta ciccio Mamma mia E' l'ultimo Cosa si è aperto Un disastro E' stato Madonna Però Oh ragazzi C'è tanta roba E' un po' Guarda che Complimenti Chapeau Guarda che Tanto di tanto C'è di spazio Ci va Chapeau Chapeau E Giampiero ride Soldati Sistemi di sicurezza rilevato Due intrusi Beh che si facciano I sistemi all'avanguardia Non c'è Abbiamo fatto un casino Ah era solo una dei tanti Con la Vespa Ah io pensavo fosse un boss incredibile Ma guarda qua Un libro che semina mio padre Che è buono Avresti mai pensato Di raggiungere questo momento Ma tu sei quanti momenti Ho raggiunto Che non pensavo mai Avrei raggiunto Esatto Questo è uno di quelli Assolutamente Tuo padre in un libro Che avrebbe mai detto Alla mia vita Che avrei giocato È un gioco con Paricei In un gioco Con dove c'è mio padre Che un libro E che se ne va via Volando Facendo inserire Il verso Della gallina Fine E questo è tutto Un dire Un po' perfetto Con un personaggio Che è uguale a te Ok eccoci Ma in tutto questo Non l'abbiamo dovuto battere Oh ecco come ho detto Ok bro Non l'abbiamo dovuto battere niente No quel cazzo Aia Questi sono sca Aia ti sei fatto male Quindi ti fa male anche a te Se ti colpisci Se ti colpisci Loro insieme vicino a me Sì Ah ok ok Allora niente Vai Secondo me sono infiniti questi No bro Andarei Spero là Spero là Ah ok ok Vai 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 Perfetto Vai fai fuori queste Oh attento bro Oh ma quanti sono Anime recuperate No Vedi che per essere Dark Souls Bro fidati Cos'è sta roba Sono lampadari Cos'è sta roba Ok Quanto cacchio è grosso Quest'albero Una bottiglia Assurvespa Intrappolato Intrappolate Occhio occhio Sto rincazzati gli altri Devi colpire i cosi Fidati Perché se no Continuano ad uscire vespe Fidati Lo so Me lo sento Colpisci questi affari Oltre che le vespe Anche perché se no Anche l'altro Anche l'altro Ok Bravissimo Maledizione Chi cacchio è questo Questo è nuovo Questo è nuovo Ed è bello incazzato Quindi occhio Mi ha beccato E mi ha fatto un mare Mi ha levato metà vita In una botta Attenzione Bro qua c'è uno Colpisci lo colpisci Come c'è uno Vai bro Ok Le altre vespe sono morte tutte Ah no c'è una qua C'è una qua Due qua Due vespe L'ho fatto L'ho fatto Quello si ma c'è una vespa normale Che ti gira intorno C'è dietro i te Tranquillo Schifo sempre Pensavo a lui Va bene bro Meno ma Madonna che squadra Già fortissimo Perfetto Si stiamo facendo Un danno pazzesco Bravo 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 Perfetto Madonna Fortissimo Vai bro Si si che sta caricando Ok Vai bro di nuovo Madonna vai Vai bro Perfetto Vai bro Aspetta aspetta Vai E' morto Non è morto ancora uno Ora si Ora è morto Yes Ma siamo stati dei grandi Siamo fortissimi Boh andiamo qua sopra Madonna raga Porca vacca Pollicione in su Presto video Ma altri 5 Ne vogliamo di questi qua Cioè siamo morti solo Nelle cagate tipo di salto Perché non ci ricordiamo Come si schiaccia R1 Devi colpire questo Cosa sopra di te Guarda questo Wow Tutto Tutto C'è il bello C'è il bello No ma lo sapevo Perché prima me l'aveva Targettato per sbaglio Quindi ho detto Ok Ok Che succede Cos'è sta roba Ma che ca Ah ok Ma se io ci vado sopra qua Posso andare Ah no muoio Ok Hai scattato una foto Mentre stavo morendo Sì vieni qua Vieni qua Ok vieni qua Vieni qua Oh merda Guardiamola tutti Ti prego Si sviluppa tantissimo Ti prego Fammi vedere sta foto Eccola No Alla è attaccata Sì Questa è tua Grazie Wow Siamo bellissimi No ma tu sei Sei particolarmente figo Guarda che naso Della madonna Guarda che cazzo Di naso Ma dove Questa è la copertina Del video Fermi Ah Onde medusa Ok Ci siamo Grazie che schifo E effettivamente Io non ho mai toccato La medusa Tu hai avuto a che fare Sì A me pure E ti ha fatto male Brucia Non esageratamente Però fa da fastidio Beh immagino Sai che fa Non ci sarebbe Che Ma lì in Sicilia Sì 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 Perché 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 esistono Sti animali Che utilità Ma tanto lo sai Ma tanto lo sai Che le meduse Vivono Tipo Non mi dicono quanto Ma tantissimo È vero Cioè forse Addirittura Sì Non vorrei Di divulgazione scientifica Sbagliata Anche perché Questi video Non lo sai tu Ma Torrico Io li guardo Anche Alberto Quindi Alberto Scusami Signora Signora Mi scusi Se dico Cagate Ma credo Che le meduse Possano anche essere Mezze immortali No? Sai che sono anche Composte a 90% D'acqua Bravo 90% Perfetto E qual è L'elemento Del sale L'elemento L'elemento Del sale Non lo so La tavola periodica Volevo farci Sembra I più stupidi Di quello che siamo E ci sono riuscito Fidati Ok Cos'è sta roba Non l'ho mai visto Superquatico Cos'è Che cazzo è Oh devi andare Su sta roccia bro Eh ho perso Credo Non so Sono su sta roccia Ma serve a qualcosa Ah si si Ce ne sono altri Oh Ah puoi Puoi viaggiare Da uno di sti cosi All'altro Di prenderlo al volo C'hai fatta Bravo Ma cosa so sti cosi Che fisica c'è Ma poi che Ma dove siamo Alvento l'arbero Perché siamo Sott'acqua adesso Siamo Che cazzo di albero è Che albero è Dovamo arrivare Nella camera da letto Di nostra figlia C'è un peli Siamo giocata Subnautica Che cazzo è Subnautica È un pesce gigante Boh vabbè È un pesce gatto Boh vabbè Ah lo possiamo dirigere No si dirige da solo Sì È diventato Nemo Sto gioco Che cazzo è che siamo Nell'acqua Dell'albero Del mondo Ma poi pesce invisibile Mai visto Dove siamo È diventato Non è più tanto fisico Sto gioco Vabbè che due Due bambole che prendono vita Non è che siano Tanto fisiche Scientivi Però Prendete le altre cose C'è generalismo Almeno le altre cose Sto accadendo Sono morto Continua su questo gioco No Ok sei morto anche tu Ah ti devi Ti devi muovere Per stare sopra il coso Che sono schiatti Ok Possiamo buttarci di sotto Vamonos Stiamo accadendo nel centro della terra Non esiste più niente Non esiste più nulla Arriviamo Ma che siamo arrivati al nucleo Non lo so In fondo a questo tunnel C'è il primo iscritto del mio canale Che finiamo sempre Albrei Ma basta Oh ci sei Anima qualcosa Cacchio Oh Che sta qua Aspetta Cosa è un'essenza Cos'è Devevo dare spiegazioni Non lo so Sì è un'essenza Sarà frangipane Sarà frangipane Ok E ma Dove stiamo andando Che cazzo ne so È da due ore Che siamo in un albero Eh Figurati Oltre schiva Non stare nel mezzo Ma mai Adesso mi sa che devi stare nel mezzo Ma fai quello che vuoi Non ascoltare così Da me che sono un pirro No 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 Tranquillo Non so dove devo andare Ok No vabbè è un casino In mezzo Ragazzi è un bordello È l'ascensore dell'albero Comunque dovremmo uscire Teoricamente Siamo passati all'oceano Che sta sotto casa nostra Non sapevamo come Praticamente Ah L'ascensore dell'albero Ok Bella Perfetto Oh Antacid Bravissimo Stavi Madonna Ah Questa è un'arena L'arena L'arena delle battaglie Quella dove ci prendiamo Tutti gli aghi delle vespe Nel deletano Mamma mia Però lo facciamo con Consapevolezza A morte Dicono a noi bro C'è uno schifo in terra Ma che schifo Meno male che non è un ragno Ah no Questo è uno di quei Quei si chiama Ma che ne so Eh così è Scarabbo Lo scarabbo Scarabbo rinoceronte È cornuto Occhio che non so come Non so come Forse devi farciarlo caricare Vai bro Sparala Sparala Sparola Sparola Arco demonio Sto mirando io Falloveria è qua Ok e si incastra a mentre carico colpì madonna gli ho levato tantissimo proviamo è morto bro maledetto bastardo madonna che brutto forte e adesso siete voi stronze a parla è un coleottero non sappiamo neanche la base dell'animale di animali siamo delle schife si si niente avevi visto delle persone che conosco tutti animali a memoria ma questo è un bor 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 ma poi fai a saperlo è un po che con quello che cazzo a vai bor 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 cerco te pazzesca è diventato nostro amico però ma come prima abbiamo spavano contro le vespe vai ingroppalo c'è nel senso in grado e possiamo sparare fare cose a lo puoi far saltare e io posso sparare quindi immagino che tu immagino chiedeva colpire qualcosa a un certo punto non so cosa ecco i quasi qua e no questi no li salta a questi sì ok perfetto non abbiamo beccato due abbiamo beccati porco demonio proprio di faccia ok per quella mira assistita che c'era anche nei giochi quelli delle sale giochi che tu stai fermo di colpire le cose sono un coreotero detto anche sei un po leo sei un bor 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 che di quali che generazione bor 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 l'unica c'è stessi por bor bor e di elemento terra e terra certo la donna che mira a 360 l'albero sta finendo si qua quando ma quando mai a ecco è vero siamo nell'alveare quasi ok bro a sta volando incredibile volare e vabbè adesso muore scommetti si è sacrificato per la patria questi qua stanno veramente combattendo l'inevitabile quando noi con uno schiappa uccidiamo una vespa praticamente sì praticamente sì noi lo stiamo trattando come se fosse un aeroplano e che poi si ne frega niente bor 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 eccolo sono delle catene dentro l'alveare ciao bor è morto è morto ortor credo che questo sia il boss finale bro c'è il boss finale del dell'albero io ti chiedo tu sei pronto no oh no attaccateli bene siamo nella merda vespa regina bro devi colpire anche lei non so bravissimo perfetto un po l'abbiamo tolto ok è come un boss di dark souls pensano così è vero è vero vai colpisci qualcosa madonna che propria c'è anche la connella di so la connella quella io la chiamava la connella è un ago quello però non dovresti prendere che fa male però su una piccina a così dietro la colpisci la e dei fanno esplodere dietro fanno esplodere faccio io o l'ho colpita non si fa niente però di colpire solo sulle x ok ok io ho fatto il giro quindi a posto occhio che se moriamo ci fa iniziare tutto e quindi vai sulle x fatto qua davanti torco demonio che botta ma io faccio hai fatto dietro perfetto anche di sopra bravo bravo anche di sopra sopra e sotto ok ok si non hai fatto le fatto in realtà ok occhio a questi a queste colpisci che ho così morto meno male che sei morto nella nell'inter mezzo male occhio o ma dai saltali saltali sono bombe bar 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 dove sei servito adesso per essere un momento secondo me dopo la coppettimento torna per di farci capire che non è morto un grande borghè ma sì sì questo è ma è por bor bor orca troia ma io a me cicciorto vabbè io non mi ha colpito a me neanche una volta sono stato bravissimo meno male che ci compensiamo ma è vero è vero ok bravissimo così si fa grazie bro bravo colpisci lei dietro mi sa va a dire una cazzatora ma mi sa che devi colpirla dietro dietro proprio vedi che c'hai cose ma chi è fatto a colpirla dietro la che è di davanti ero che ho fatto qui il giro ok usciamo stelle che vengono che le odio adesso le faccio fuori occhio che sto facendo il giro quindi resisti ok è staccato un pezzo dietro è quasi morta ancora una dai con la volta c'è oh mamma mia minchia che boss fight no ragazzi pazzesca incredibile madonna raga siamo cascati però a posto dai sto bene lei io penso che sia tutto a posto ce la portiamo a casa sta facci qualcuno dentro ma che era la vera ave regina una cosa che non è una pena è una ma che ma che carina che vendicchia che vendicchia sopra nominavo la vendicchia la vendicchia o è un bombo il bombo è quello che sembra un bombo è un bombo ma bor 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 dov'è la spunta ora bro guarda 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 aspetta ah no ci siamo attaccati noi al bombo bombo bor body a no noi doveva sparare a cosa ok vai allora penso che sia un filmato ok minchia e questo è tipo alla wanted bella tutto netto io e il bombo e il ciccio amico mio con il naso grosso siamo salvi sì sì ma anche al nostro amico di meno ma anche al nostro amico bor borbo che è morto peccato siamo usciti ci abbiamo fatto evidentemente ecco ma dai madonna ragazzi ma è un attimo esagerato ma infatti ma poi amica ma nessuno ammira beh infatti nessuno ci ha beccato che cazzo è che sti hanno fatto hanno trovato la le armi nelle patatine come è possibile un po ma come ci abbandonati ma come questa roba vai che è un alb è un col con le mutande e la bottiglia esatto vabbè sì se non ci avete beccati a un metro dovete beccarci lì codice guscio ma non sono sti amici e adesso si chiede faremo fuggire bro bor 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 no ma ho un guida io devo sparare capito o in comandi invertiti come faccio ma come gioca invertito minchia bro se sembri ubriaco sembra un primo come cazzo ci fa il diritto ti prego non ti schiantare oddio santo benedetto ok ok nice dove cacchio vai e scusa bro visto delle robe che non saprete scrivere comandi invertiti molto bene ah io posso anche di mare e poi la po se usciti c'è il soldato ryan orco demonio ci ha fatto cadere qualcosa alla fine porco le mangiare e vabbè c'è da picchiare io ero vedare è sì ma che ora è come il finale metà il chiaro 1 bro io non ci credo però soli bene ma che cazzo vuole siri occhio aia ma è fortissimo però lo faccio guardare lo faccio guardare che male guida o bravo bella è bravo bella ma questo qua guarda che cazzo è bro lì aspetta che male street fighter in confronto un cazzo ma è bro l'ho battuto per un niente ok ma sei forti sono forti ero perché i po ma che era una città una reference ottimo secondo me dovremmo andare verso casa visto che ci stiamo schiantando e poi dovevo ripare tutto da capo l'oceano quindi si rimettono in sempre adesso no nelle fogne no bro dai no vacca morta il peso come il peso è vero è bro rocca vacca devi andare a siri ok vai vai porca vacca che mira già brevissimi ok eccola possiamo entrare nella finestra incredibile ce l'abbiamo fatta a 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